Un uomo di 34 anni versa in gravi condizioni all'ospedale di Lugo dopo che nella notte di mercoledì è stato coltellato probabilmente durante una rapina. Il violente episodio è avvenuto intorno alle 23.30 a Lugo. Due persone, di cui una armata di coltello, hanno avvicinato la vittima in via Cardinale Bertazzori, dove si trova un giardino ricreativo e un chiosco di piadina con davanti un parcheggio. La dinamica degli eventi è ancora tutta da ricostruire. Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale Stazioni che si sono recati sul posto dopo la chiamata al 118. L'uomo, dopo l'accoltellamento, è stato soccorso dal personale medico ed è stato trasportato con il codice di massima gravità all'ospedale di Lugo.